E' un concerto che celebra l'armonia di musica e natura. Quindi ci ispiriamo alle più attuali tematiche di sostenibilità, di cambiamento climatico, io sarò al pianoforte ma ci sarà anche il professor Fabio Massimo Frattale Mascioli della Sapienza, il dottor Tommaso Campalini del Conoe per dare già degli strumenti positivi non soltanto di denuncia ma anche per dire che cosa si può già fare nel nostro concreto, nel nostro piccolo perché siamo proprio in un posto bellissimo e deve rimanere tale. Come nasce l'idea di questo concerto Gaia? Nasce sul gioco di parole, naturalmente Gaia suona, è una provocazione, però è vero, il nostro pianeta suona veramente, questo si sentirà il 10 di luglio, non soltanto il mio pianoforte, non soltanto le percussioni di Oscar ma tutto questo con delle bellissime videoproiezioni. Da supporto multimediale. Sì assolutamente e quindi vedremo come le regole della natura corrispondono alle regole della musica, se noi rispettassimo le une e le altre non ci sarebbero stonature. Ti volevo chiedere, volevo su questo tema che insomma è un tema voglio dire abbastanza caldo, da tutti i punti di vista insomma, secondo il tuo punto di vista c'è una maggiore attenzione soprattutto dei giovani verso il tema della terra, del rispetto appunto del nostro pianeta? Tanto e il bello è che non è soltanto una denuncia, non è soltanto un lamento, è voglia di poter fare già nel concreto qualcosa, perché in Italia si tende tanto a lamentarsi e a rimanere fermi, no? Questo purtroppo è un vizio endemico. Invece la spinta è quella di dare già nel corso del 10 luglio dei semplicissimi modi per poter fare qualcosa. E la musica è un grande strumento per arrivare al cuore delle persone. Esattamente perché celebriamo... E anche e soprattutto al buon senso di chi ci governa. Bravissimo. Celebriamo il bello finché ce l'abbiamo. Assolutamente e godiamocelo e rispettiamolo. Allora 10 luglio, ore 21.30, Gaia Vazzoleri con il concerto di Gaia, un concerto sulla terra, Gaia Suona, Oscar Bonelli Percussioni e la partecipazione di Carlo Alberto Pratesi e Fabio Massimo Frattale Mascioli della Sapienza e Tommaso Campanile del Conoe. Perfetto, Gaia in bocca al lupo e buona Gaia. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie mille. Grazie a te.